ciao bellezza buongiorno allora sono in compagnia tua per fare uno spacchettamento volevo dire che ovviamente i pacchi che arrivano sono diversi soltanto che non ho proprio fisicamente il tempo di fare i video ogni pacco che mi arriva anche perché le persone gli utenti che mi chiedono i prodotti hanno anche una certa fretta visto che ci sono integratori e quant'altro allora procedo mia forbicina intanto fuori come vedi ci viene legata la fattura dove ci riporta tutti quanti i prodotti il totale che hai contanto di scontrino per apro pare sempre natale ma tanto è vicino natale quindi ci siamo con gli spacchettamenti allora come sempre l'azienda prepara i pacchi in maniera tale che tutto quello che c'è dentro non si quindi l'imballaggio ci siamo allora intanto partiamo da questo maggio che è un sacchetto in organza che l'azienda mi ha messo e ho potuto scegliere il colore e qua dentro metto un pacchettino da regalare allora quello che abbiamo preso in questo giro un po l'ho preso ovviamente per la mia famiglia dove faccio la spesa sempre perché è il mio negozio ci compro le cose per me e la mia famiglia ma anche le cose che hanno ordinato le mie amiche e i miei amici Lessinghio Allora se hai visto i video precedenti sai che Lessinghio è un probiotico e prebiotico che ha una funzione indispensabile per il benessere psicofisico perché psicofisico sappiamo tutti quanti che il nostro intestino è il nostro secondo cervello quando siamo bene anche dal punto di vista interno siamo bene e meglio anche fuori quindi Lessinghio non lo uso soltanto quando devo prendere dei probiotici per una cosa specifica la uso anche e quando ho per esempio l'addome gonfio sento un po di fastidio un po di subbuglio a livello interiore non sto bene non necessariamente uno deve stare male e questo ci fa stare bene a lungo Questa è la crema per piedi alla bosuella erroneamente chiamata crema per piedi la uso per diverse cose questa crema perché ai piedi è meravigliosa ma è proprio contro dolori muscolari strappi eccetera quindi un torcicollo una cervicale un dolore muscolare una spalla a un braccio e ottima ottima faccio vedere ah no ecco non posso ottima non l'apro perché questa è da consegnare è al talloncino sopra e non voglio rovinare la confezione ma anche la crema per piedi ha il suo bugiardino pensa tu questo è l'aloe Q10 l'ho presa per me sostituirò un integratore che prendevo da tempo in parafarmacia per quelli che sono i disturbi della menopausa con l'aloe Q10 perché oltre ad avere un'ottima funzionalità contro i radicali liberi e da molto sollevo per le vampate i sbalzi d'umore l'irritabilità l'insonnia ma soprattutto presa la mattina che va presa la mattina da grande energia e anche lucidità mentale quindi per questo poi possiamo fare una sessione specifica come dovremmo fare per il collagene ci stiamo organizzando avevo promesso che avremmo fatto dei video ad hoc con la mia collega speranza proprio per spiegare di volta in volta vari prodotti abbiamo seguito in questo mese tantissime persone che sono entrate nel team quindi in realtà abbiamo dato la precedenza alla loro formazione e di conseguenza i video che volevamo fare che stiamo pianificando non abbiamo ancora fatto ma arriveranno in ogni caso se è una domanda specifica un argomento specifico un malanno corna facendo specifico purtroppo ce l'abbiamo tutti puoi scrivermi direttamente qui e possiamo poi trattare l'argomento flowen anche questo se hai seguito il mio video lo conosci è quello per le gambe per la circolazione che cosa fa rafforza le pareti venose interne e aiuta ad assorbire gli ematomi contro i grampi notturni la stanchezza con fiore delle gambe aiuta il microcircolo il microcircolo è tutto quello a livello superficiale quindi anche quello che arriva alla cute di conseguenza anche i capelli ne beneficiano io lo prendo questo al 2019 quindi proprio garantisco personalmente ritorno al discorso dell'aloe oltre al Q10 compresse prendo spesso l'alterno anche ai sciroppi anche questa che è l'aloe vera insieme anche a cardomariano e altre piante officinali che cosa serve serve a tutto perché intanto chi conosce l'aloe sa che è una pianta dattogena quindi quando noi la assumiamo va a curare le problematiche che ci abbiamo da sola nel nostro organismo la diluisco faccio 5 tappini in un litro e mezzo d'acqua la bevo durante la giornata sentirai subito dei benefici c'è uno sgonfiore generale un alleggerimento proprio e aiuta la digestione abbassa il colesterolo ne ha tantissime di qualità e l'aloe poi anche di questo possiamo fare come dicevo una cosa specifica a parte però la maggior parte di noi conosce l'aloe e benefici per cui è facile andare a vedere l'aloe quante cose risolve anche andando in giro così nei motori di ricerca qui abbiamo la chicca qui abbiamo veramente la chicca queste creme viso vediamo di metterle tutte intanto sopra abbiamo la segnalazione di quelle che sono indicate per il giorno e queste notte queste sono creme di qualità premium più perché oltre ad avere l'acido ialuronico hanno il colostro il colostro come sappiamo tutti il primo latte diciamo che aiuta tutto ci protegge un antinfiammatorio naturale alza le difese immunitarie e fa tante cose diciamo sia a livello esterno perché poi ce l'abbiamo anche interno con lo yogurt che ti ho fatto vedere anche quello ma anche a livello epidermico importantissimo non solo ha un brevetto che proprio protegge la nostra pelle dagli sbalzi termici che significa caldo e freddo ma non solo anche mascherina metti togli dove si forma un vapore acqua comunque che va a fastidire quella nostra pelle del viso questa crema è studiata apposta per ovviare questo problema e posso garantire personalmente che quando uno prova sta crema le altre benché buone se le dimentica tant'è che due sono in vendita una è la mia andiamo a vedere altro guarda che imballaggio questo è super protetto perché l'azienda quando manda le cose le manda in tutta sicurezza guarda che protezione questo è lo syrup allora gli syrup meraviglia 700 ml di syrup lo sciroppo nasce proprio in azienda per ovviare e la problematica di chi non ama ingerire pasticche o capsule quindi ci sono sciroppi per tutte quante le funzionalità che abbiamo anche per gli altri integratori però in versione liquida ok questo è un antiossidante naturale è stato preso da una persona che sta facendo un percorso per disintossicare l'organismo perché è stato riscontrato un colesterolo molto alto quindi bisogna prima depurare l'organismo e lo fa con uno syrup un'altra aloe vera questa ci manda l'azienda anche una bellina chi volesse fare un bel regalo lo sciroppo veramente un regalo di salute gli amici parenti conoscenti ringrazieranno c'è anche la bustina bellissima e poi qui c'è una scatola meravigliosa è un regalo per me c'è scritto gift for you apriamo che ci sarà meravigliosa scatola vado a mi hanno mandato una scatola già pronta per inserire uno dei miei doni bellissima veramente bellissima grazie essence questa è una sorpresa vera e propria se hai delle curiosità rispetto a dei prodotti specifici delle patologie specifiche scrivimi vedremo di risolverle magari facciamo una cosa apposita se hai domande e curiosità anche per su quella che è l'attività scrivimi mi puoi scrivere qui puoi scrivermi in direct su laura grapse di instagram su facebook oppure direttamente nella mia mail laladebbi chiacciolalibero.it perché lì puoi mettere il tuo contatto ti chiamo direttamente va bene a presto